con un lenzuolo bianco vorrei coprire la mia mente la volontà gli affetti i miei giudizi la memoria le parole e le azioni con un lenzuolo bianco come si fa con i mobili delle case che non sono più vissute e vorrei glorificare il mio presente allora sarò al cospetto della verità avvolto in un'aura di saggezza commento quando avrai stesso quel lenzuolo non sarai al cospetto della verità finché resterai nella condizione umana e anche molto dopo